Questa foto è stata scattata nel 1968 da un astronauta della missione Apollo 8 e rappresenta la nostra Terra vista dalla Luna Purtroppo ho chiesto alla NASA ma non mi hanno permesso di andare sulla Luna quest'anno e quindi niente, ribaltiamo la situazione e fotografiamo la Luna dalla Terra Dopo il video dove avevo testato il telescopio e avevo fatto la prima foto ma un po' sfocata Questa volta sono uscito nei colli veronesi per cercare di fare qualcosa di meglio Ecco com'è andata Telescopio, treppiede, oculari vari, aggeggi vari e lì c'è la Luna In realtà c'è un po' di foschia però la Luna in teoria si dovrebbe vedere abbastanza bene 5 gradi, freddo ma non freddissimo Ciao ragazzi, allora sono super contento perché stiamo andando a provare per la prima volta il telescopio in maniera decente In realtà non c'è un grandissimo cielo questa sera Infatti si vede parecchia foschia però da domani comincia a essere nuvoloso visto per parecchio parecchio tempo E quindi ho detto cogliamo l'ultima sera per testare e cercare di vedere la Luna Quindi adesso non sappiamo bene dove andare verso i colli veronesi e troviamo un posticino e facciamo un po' di foto Qua stiamo salendo vedete già che le strade si stanno facendo più scure e più piccole Quindi siamo nella direzione giusta secondo me Anche se non sappiamo bene dove stiamo andando Ciao ragazzi abbiamo trovato questo parcheggio Guardate la Luna è qui Qui c'è un'azienda agricola ma speriamo che non arrivi nessuno Quindi secondo me è abbastanza buio e decente Guardate comunque la luminosità di Verona come influenza la luminosità del cielo, assurdo Ciao ragazzi, luce rossa che così non ci colpisce troppo gli occhi e non fa troppo male E adesso vediamo di sistemare tutto Tre piede Speriamo che non arrivino i briganti più che altro Siamo in bolla E adesso il pezzo forte Il telescopio Vediamo di non farlo cadere Ho sempre il terrore che si stacchi tipo da un certo punto Ok ragazzi, mi sembra super solido Perfetto, abbiamo il nostro telescopio e ora è il momento di provarlo Ho messo l'oculare 25 che è minimo zoom perché adesso parte la fase del puntamento Con questo telecomandino adesso setto dove sono, quindi allineamento Il mio telescopio è un Celestron Nextar 130 SLT Ma se volete maggiori informazioni e capire come funzionano le lenti e la mia attrezzatura Ho spiegato tutto in questo video qui Link in descrizione Allora ora è il momento di centrare gli oggetti Vedete se io clicco il telescopio si sposta Ora devo centrare tre stelle Molto distanti tra loro In modo che il dispositivo, il computerino Riconosca dove siamo Adesso ci vorrà un po' per la procedura Ok l'allineamento l'ho fatto, speriamo bene Adesso in teoria sclicco luna E dovrebbe andarmi ad indicare la luna Speriamo bene 3, 2, 1, via Oh Sacca ha sbagliato No ragazzi Aspettiamo ma non penso Oh ragazzi speriamo bene Sono qui che mi sto congelando nella speranza che sia giusto È che si sta avvicinando Speriamo speriamo Si sta ancora muovendo Sento il rumorino Oh oh quasi quasi ragazzi Siamo quasi allineati eh Dai 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 dimmi che siamo allineati Fermati fermati ti prego fermati Ok Boom Siamo completamente allineati alla luna Oh mio dio ragazzi Non ho mai visto la luna così Ho i brividi È lo zoom minimo ma è pazzesca Ok ragazzi ora provo a farvi vedere con la luminosità Con lo zoom minimo Eccola Tra poco vi faccio vedere anche le foto che ho scattato con la mia macchinetta fotografica Molti di voi mi hanno chiesto di fotografare Saturno e Giove Purtroppo però le orbite in questo periodo non sono al nostro favore Perché si vedono di notte solo se fossimo dall'altra parte del mondo Comunque se siete interessati ai pianeti anzi agli esopianeti ovvero i pianeti fuori dal sistema solare Questa sera alle 21 con il prof lo iacono facciamo una conferenza dedicata ai mondi alieni Il live sul sito viola link in descrizione Signori mentre stavamo guardando la luna è arrivato che non so neanche il nome come ti chiami Alberto Ah anch'io bellissimo nome piacere Piacere mio Vi abbiamo fatto vedere la luna per la prima volta al telescopio e prime impressioni Ragazzi è un'esperienza incredibile non mi aspettavo fosse una cosa così bella La desideravo un po' da quando ero piccolo e passando di qui in auto ho visto il telescopio montato e non ho resistito mi sono fermato Grande È un'esperienza magnifica C'è un dettaglio veramente incantevole Sei più bravo di me a fare le recensioni Ciao ragazzi allora ci siamo congelati abbastanza Abbiamo cercato di vedere la luna nei migliori dei modi E ad occhio nudo è veramente una cosa sbalorditiva Non l'avevo mai vista così sono veramente estremamente contento Guardatela lì che bella nel cielo E ho cercato di fare con la macchinetta incastrarla dentro al telescopio Avevo i vari aggeggi ma non sono riuscito purtroppo Quindi ho semplicemente messo la macchinetta davanti all'oculare E comunque non è venuto male E niente le prossime volte magari vediamo anche altri oggetti nei cieli Adesso stiamo completamente congelando quindi mi sa che chiudiamo tutto Vi saluto e ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie per la visione!